Musica Buona domenica a tutti i nostri telespettatori Persiste sulla nostra regione l'influsso mite proveniente dai quadranti sud-occidentali che in questi giorni favorisce molta umidità associata a qualche locale pioggia e valori termici superiori alle medie A caratterizzare il cielo domenicale ci sarà un tempo in prevalenza nuvoloso con nubi basse che tuttavia lasceranno spazio a qualche schiarita soprattutto in quota e nelle ore centrali Foschie o locali nebbie potranno verificarsi in pianura e nelle valli, specie durante le ore più fredde La probabilità di qualche locale modesto fenomeno sarà piuttosto bassa Passando ai venti in quota soffieranno da moderati attesi da sud-ovest Altrove saranno generalmente deboli di direzione variabile La colonnina di Mercurio subirà per lo più variazioni modeste e di carattere locale Per lunedì 13 ottobre la situazione meteo purtroppo andrà peggiorando Avremo un cielo in prevalenza nuvoloso, specie in pianura e nelle valli prealpine dove saranno presenti nubi basse e foschie o locali nebbie in particolare durante le ore più fresche Si attendono inoltre probabili precipitazioni sparse nella seconda parte della giornata Le temperature subiranno ancora contenute variazioni di carattere locale Da parte mia è tutto, noi ci ritroviamo al prossimo aggiornamento A presto!